i giochi dei giochi dai dai quando non abbiamo un pochetto minore chi lo vedi? non vedi più eh 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 ma sai proprio che non lo sto aspettando io non mi vedi se mi piante a te ma così bella stavata e' Anna ah no ma che parla a Betto Angela Angela sto stanna sono vecchia sono 27 anni ma tu sa si ora sai che le stagioni la ripensione è già la robucca con l'ora te li faccio vedere la robucca con l'ora e' schifo perché cambia o non puoi scendere mai in alcantico che mi dice che in crisi non puoi restare perché non esiste poi mandare un argelino con la macchina e quindi facciamo una rammonata cioè ormai si hanno fatto quasi a chiesa Anna tu vai tutti l'inverno e chi scende? esatto Anna non scende ma Anna non scende e sta a me ma come faccia la metto? no perché chi scende? una spesa poco buona si si il bambino non so se accende l'altro anno perchè il bambino si mette se il bambino si mette il buona io sono nuova e si mangia la vita a me se il bambino ha avuto lì 15 ore e funzionato quindi andiamo di là non lo puoi provare non lo puoi provare se il bambino viene direttamente a settembre a noi cosa ha detto secondo me poi sicuro vengo direttamente a settembre che si può sperare ai ragazzi invece ci sono i bambino non lo puoi provare non lo puoi ma anche quanto si è non lo puoi provare è vero ma non lo puoi non lo puoi non è vero no non lo puoi ma non è ero non è vero ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.